oltre per l'ordine c'è raga non ingaggiamo dietro noi 4.1 si 4.1 anche loro insettate la comp occhio non state vicino alle scale che scappano uno è morto vai 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 ah no 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 scappa ok la pike raga la pike la pike la pike easy guarda che danni prende occhio questa roba qua che fa malissimo c'è un cc guarda che li prendono tutti con la ve posso saltare tra due secondi questa arciera questa arciera questa arciera torme facile la arciera raga facile 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 free ok assistato la pike dietro la pike dietro ok la pike dietro la pike dietro ok che la scudo la pike è morto è morto però quanto hai il root è morto è morto bravo anne bravo ok buono questo qua romagna sta minchia ma che è morto è morto anche è morto anche lui lo prendono lo prendono e lo uccidono la gatti muori più e ripetano ok l'archein l'archein l'io la sta scoperta in seguito all'altro noob si sono io che cattive è vero in seguito all'altro noob eh si l'archein è morto l'archein 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 è morto l'archein ma è l'ultimo questo raga, siete sicuri? lilar è morto lilar dove è andato? non l'avete luttato dietro? no lilar no, è scappato no no uno è morto adesso vi porto lo ho seguito io gg